Grazie Ho voluto dedicare questa prima tappa del tour a tutte le donne vittime di violenza e ci sono tutti gli strumenti necessari per difendersi e per combattere questo fenomeno di cui si legge troppo e veramente ogni tre giorni ogni tre giorni sui giornali si legge che una donna viene uccisa proprio per questo motivo come ho detto poc'anzi siamo nel 2013 ci sono tutti gli strumenti per debellare questo fenomeno se non altro per combatterlo e per sovrassarlo per cui difendetevi e soprattutto non abbiate paura di denunciare sono state invitati qui e sono in un'unità di tre associazioni che voglio salutare e ringraziare per aver partecipato anche fisicamente a questa mia prima tappa Grazie 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 Spoon, ok. Spoon, ok. Spoon, ok. Grazie al cielo qualcuno fuori ti aspetta, se sarai migliore magari ti sveglieranno presto e sarà già domani. Spoon, ok. La notte cambiano i colori, grazie al cielo con sole vengo fuori. Se sarai tutti quanti migliori ci sveglieremo presto e sarà già domani. Corri, corri, corri dalla porta, grazie al cielo qualcuno fuori ti aspetta, se sarai migliore magari ti sveglieranno presto e sarà già domani. Se sarai migliore magari ti sveglieranno presto e sarà già domani. Grazie.